No, eh, 900.000 streaming in neanche due settimane, cioè praticamente un milione di streaming E ancora qua la gente parla, bla bla bla, parlano i numeri, no? Quasi un mille, beccatelo Zero spinte, zero stronzate, non devo fare hype con niente, faccio hype con la mia cazzo di musica Un milione, porco Dio, tra pochi giorni lo festeggiamo, sto milione mi spacco a merda Cra 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 Grazie